Prende oggi il via proprio qui a Ragusa la terza edizione, incontri con gli editori, incontri con gli scrittori, un momento di approfondimento e anche per promuovere la cultura? Sicuramente, l'idea che è nata tre anni fa di mettere assieme le case editrici ragusane della provincia di Ragusa e gli autori ragusani è stata una idea vincente nel senso che forse non avevamo allora la consapevolezza di quanto importante potesse essere questa manifestazione. Ma ci siamo resi conto che offrire alla nostra provincia una riflessione attraverso le cose che essa stessa scrive attraverso i propri autori è il modo migliore per far crescere nella nostra comunità. Quell'elemento fondamentale è che è la capacità critica in un contesto omogeneizzato, scarsamente differenziato. Quello che stiamo facendo con Libera Ragusa è proprio questo, una città, una comunità che non solo legge ma che si legge. In fondo la lettura, anche se in percentuale molto limitata, è diffusa nel contesto italiano ma il leggersi, cioè l'autoanalizzarsi di una comunità non è una caratteristica molto diffusa. In questa occasione, proprio oggi, oltre alla cultura parliamo di libri ma ci sarà anche un'occasione, un momento di riflessione su altre tipologie di arte. Sì, noi abbiamo sempre pensato che l'autolettura di una comunità non fosse solo i libri ma si dovesse estrinsegare in tanti modi e abbiamo, infatti, stasera iniziamo con questo concerto straordinario di Alfio Antico, un percussionista che nasce dalla tradizione popolare e che è diventato una cultura e un modo di far musica di livello nazionale. Ma anche ci sono altri momenti diversi dalle letture dei libri, ad esempio leggeremo i quadri che sono esposti dalla fondazione di questa Camera di Commercio nella Sala Borsi. Sono i quadri di ferma che rappresentano la città agricola e la città industriale. Un altro modo di leggere la nostra realtà e poi ci saranno nell'ambito delle attività diversi reading. Uno di questi è quello del regista Gianni Battaglia che presenterà Darmasago che è diventato patrimonio dell'UNESCO, patrimonio dell'umanità. Quindi abbiamo tante realtà. E l'ultima cosa ricorderemo un sacerdote intellettuale della nostra provincia, padre Mario Pavone, nell'anniversario della sua morte. Grazie a tutti.